Dal Vangelo secondo Marco In quel tempo, Gesù partì con i suoi discepoli verso i villaggi intorno a Cesarea di Filippo e per la strada interrogava i suoi discepoli dicendo La gente, chi dice che io sia? Ed essi risposero Giovanni il Battista Altri dicono Elia e altri uno dei profeti Ed egli domandava loro Ma voi, chi dite che io sia? Pietro gli rispose Tu sei il Cristo e ordinò loro severamente di non parlare di lui ad alcuno e cominciò a insegnare loro che il figlio dell'uomo doveva soffrire molto ed essere rifiutato dagli anziani, dai capi dei sacerdoti e dagli iscribi venire ucciso e dopo tre giorni risorgere Faceva questo discorso apertamente Pietro lo prese in disparte e si mise a rimproverarlo Ma egli, voltatosi e guardando i suoi discepoli, rimproverò Pietro e disse Va dietro a me, Satana perché tu non pensi secondo Dio ma secondo gli uomini Convocata la folla insieme ai suoi discepoli disse loro Se qualcuno vuol venire dietro a me rinneghi se stesso prenda la sua croce e mi segua perché chi vuole salvare la propria vita la perderà ma chi perderà la propria vita per causa mia e del Vangelo la salverà Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti